sentiva la mente stretta in una morsa di parole che non aveva pensato e perciò sentendosi impazzire in una notte buia che non ci si vedeva neppure ai piedi scivolò nella barchetta e cominciò a remare il cuore gli batteva nelle orecchie ma più forti erano le parole che misteriosamente si sentiva sossorrare all'orecchio ci devi salire a piedi nudi sulla luna così puoi sentire le piccole pepite di carbone e di zinco puoi sentire la carezza dei petali di fiori colore del ferro immagina, alzando gli occhi puoi vedere pensolare sulla tua testa il manto terrestre del mare luccicante, vivrante per i guizzi dei pesci ah, sapessi quanti di loro sognano di poter spiccare un salto che li porti sulla luna così a volte gli oggetti attratti dalla forza lunare riuscivano ad arrivare fin lassù ed andavano ad ingrossare i viottoli e le piazzette della discarica fondi rotti di bottiglie scheletri di ombrello calzini spaiati tazzine sbrecciate pellicce spelacchiate fotografie strappate libri sbiaditi di cavalieri e mille altri piccoli oggetti incartati di storia e accumulati gli uni accanto agli altri senza un criterio preciso ma che per Leombruno rappresentavano lo specchio delle vite che si intrecciavano in una delle luminose città della terra che gli pendevano sulla testa quando a volte si istraiava sui crinali dei crateri a suonare la sua arpa comunque chissà se per colpa di queste parole chissà se per il desiderio grandissimo di andare a vedere quegli agglomerati di luci bianche e giallastre che vedeva accendersi sulla terra sta di fatto che un giorno Leombruno salutò i suoi amici Astomi salutò e ringraziò il tizio si mise l'arpa a tracolla si dette una giustatina ai capelli si fece coraggio e cominciò a scivolare sulle catene di parole così come aveva visto fare al tizio con la gobbetta ogni tanto inciampava in qualche lettera troppo aguzza o in qualche parola troppo grossa ma nel complesso vertigini a parte la attraversata procedeva agevolmente si accorse che tutta quella musica tutte quelle note emesse dall'organo non si erano dissolte ma si erano raggrumate nell'aria formando dei lunghissimi filamenti che lo avrebbero riportato sulla sua luna ma vuoi per la fretta e la paura vuoi perché fra arpa e organo idraulico meccanico Leombruno pesava un terremoto vuoi perché i calcoli musicali procedono diversamente da quelli aritmetici vuoi perché Leombruno era stato sempre un po' maldestro sta di fatto che andò ad inciampare in un accordo di settima diminuita e andò a finire dritto dritto su due strani tipi a cavallo che sembravano cercare qualcosa Leombruno finì loro addosso con un tale impeto che tutti e quattro ippogrifo compreso si ritrovarono a gambe all'aria ci vuole un po' per districare quel groviglio di spade, zampe e braccia ma quando le armature cicolanti le staffe e gli arcioni furono ricollocati al giusto posto Leombruno li riconobbe pronto? pronto! a sto cavallo volo a volo bello e come si chiama? ippogrifo? hmm io ci sta qua un amico mia stoma no? si chiama Tidino ma gli metti le ali e facci lì per Tidino